Poi c'è il tema degli ex articoli 21, quali sono gli ex articoli 21? Cividale, Maniago, Sacile, Gemona, cioè quegli ospedali che la riforma di Fasola ha trasformato in strutture diverse dagli ospedali, ma la sfida nostra, al di là di come vogliamo denominare gli ospedali e le prestazioni che stanno dentro i distretti, la sfida nostra è quella di portare fuori pezzi dalle strutture ospedaliere dentro il sistema territoriale, perché poi è la vicinanza e la prossimità del cittadino che deve avere una risposta in un'evoluzione della medicina e quindi della presa in carico che ha a che fare con una società che sta cambiando. Assessore Telesca, i cittadini di Gemona non devono assolutamente preoccuparsi per quanto riguarda il loro ospedale? Assolutamente, perché come da programmazione il presidio ospedaliero di Gemona rimane un punto importante, anzi migliora le sue capacità di dare risposte sanitarie ai cittadini nell'ambito di una sanità che è cambiata e come sappiamo che è territoriale, che si è già trasformata da qualche anno e che ha bisogno di dare risposte alle problematiche, non quelle acutissime, ma quelle quotidiane di tutti i giorni. È in fase l'applicazione della riforma, è in questa fase qui e noi diamo tutte le garanzie di sicurezza, di tranquillità, anzi di miglioramento della qualità, della salute, della sanità dei cittadini di Gemona come quelli di tutta la Regione. Grazie.